Finisce la stagione della Serie C, una stagione come sempre esaltante con tante squadre protagoniste, tante delusi anche di lusso, come il Vicenza che perde la finale di ritorno in casa della Carrarese 1-0 decide un gol del solito fin 8 al sesto minuto del primo tempo. Lo stadio dei Marmi esplode di gioia, i biancorossi di Vecchi, i orfani di Ronaldo che ha riportato la rottura del legamento crociato nel match di andata e di golemici squalificato, oltre ad altri assenti, non riescono mai a reagire in maniera importante e la condizione fisica sembra essere inferiore a quella dei gialloblu. Un capolavoro, quello di Mr. Calabro, subentrato, campionato in corso ad Alcanto, una cavalcata pazzesca, cominciata contro il Perugia, proseguita con la Juventus Next Gen ai quarti, col Benevento in semifinale eliminato con una vittoria ed un pareggio culminata nella finale. 0-0 al Menti, vittoria di misura ma meritata in Toscana. È una favola quella della Carrarese in una stagione in Serie C veramente particolare. In Serie B ci vanno il mantova ripescato, la Juve Stabia partita con l'obiettivo di un campionato tranquillo e appunto la Carrarese che fa le scelte giuste da qualche anno ma che certamente non partiva con i favori del pronostico. Spendere quindi non è la ricetta giusta o meglio non è l'unica ricetta per andare in cadetteria. Quest'anno vincono le sorprese con il solo Cesena, confermare i pronostici alla faccia di Avellino, Benevento, Padova, Vicenza, Catania, Triestina, Crotone e tutte le altre che ai nostri di partenza dovevano fare qualcosa di più. Vince per il terzo anno consecutivo i play-off una terza classificata dopo il Palermo ed il Lecco. Ora i marmiferi di Calabro dopo 76 anni nella seconda serie del nostro calcio.